L'idea che Cantone finalmente approdi in politica secondo me è una cosa che vogliamo un po' tutti Anche a Davico non fa piacere però I magistrati in politica abbiamo I magistrati in politica solo setero però a casa nostra Ed ecco a voi la guest star della situazione Anna Rita Di Giorgio Siamo in diretta Facebook anche perché sennò non vale Ma tiriamo? Noi diamo, è venuta la scossa di terremoto Anna Rita Stavolta l'ho sentita Stiamo spaccando il Parlamento Ci voleva il terremoto per farci sentire qualcosa Comunque spero che siate tutto bene Spero che vada tutto bene E qui ci si diverte molto E non vi dico venite perché stiamo in culla al mondo Cioè dietro la Pisana ci stanno le pecore qua intorno a noi Certo ci stiamo noi e le pecore Però tutto bene Da Aurelia Celi Vi aspettiamo, sì Aurelia Celi Venite però solo setero Ok? Baci, ciao Va bene, penso che dopo questa cosa possiamo anche chiudere Anche perché abbiamo esaurito gli ultimi sprazzi Gli unici sprazzi di serietà Ce li siamo giocati No, sto scherzando, sono contento E grazie a Rosa Criscolo Grazie anche a Anna Rita Di Giorgio Che ha fatto una run Adesso c'è una run 3 Come no? Che dice no? Run 3 Una run 3 Rientrata? A Napoli quando ci rivediamo? Io ti aspetto Grazie a tutti Comunque niente io vi dico Tutti quelli che andate a Napoli Fatevi consigliare e portare in giro da Rosa Perché è fantastica Mi ha portato in un posto fighissimo Bellissimo Dove si vede tutta Napoli di sera È meraviglioso Infatti noi i prossimi congressi li vogliamo fare tutti e solo a Napoli Io direi di poter chiudere Me ne esco con lo slogan Perché Napoli non è solo Gomorra Ma l'inquadratura bassa ce la fai? Ecco Ammazza, mottacce Si facciamo un giorno d'anno